In piena emergenza Covid però le nostre trasmissioni riguardanti la vivibilità urbana, la rubrica lo sportello del cittadino va comunque avanti ed è una rubrica molto riuscita, devo dire molto fortunata perché raccoglie appunto le istanze dei cittadini. Ho al mio fianco il signor Mariano Lasorsa, ho conosciuto così oggi è la prima volta che ci vediamo personalmente perché ho ricevuto una sua mail contenente una serie di immagini, di fotografie e di video attestanti l'inciviltà di tanti cittadini. Zone della città che diventano discariche a cielo aperto, l'incuria e l'inciviltà di alcuni di lasciare il sacchetto dell'immondizia accanto al cassonetto che è vuoto. Io dico che l'amministrazione tante volte sbaglia, le municipalizzate tante volte sbagliano, fanno i loro errori anche grossolani però l'inciviltà va combattuta senza se e senza ma. Assolutamente d'accordo, intanto la ringrazio per avermi dato questa possibilità che vuole essere solo un monito, una richiesta ai miei concittadini di essere più rispettosi dalle regole perché non è possibile parlare oggi, come giusto che sia, di ilva che inquina, di carenze a livello istituzionale e strutturale quando invece poi noi stessi combiniamo di questa città assolutamente uno scempio e le dimostrazioni sono in quel piccolo reportage che io le ho fornite. Di ottima qualità devo dire. Io le ringrazio, anche se non è il mio mestiere, ne sono felice, ma comunque lì vediamo l'incuria di noi cittadini. Io possego un cane, come le ho scritte su quelle due righe, per il quale esco tutti i giorni, diverse volte al giorno e non mi preoccupo assolutamente di non raccogliere le deiezioni di questo animaletto, che è cosa molto semplice, specie con gli strumenti che... Ma come le dicevo prima, la rabbia che viene proprio, l'incazzarsi viene, passatemi le espressioni, nel momento in cui io vedo un cassonetto vuoto e tu, caspita, mi lasci il sacchetto a fianco, vuol dire proprio che sei un incivile. Assolutamente sì, a questo proposito io ho aperto, ho fatto delle scommesse con i miei figli, con gli amici, in qualsiasi momento della giornata se vogliamo misurare questa inciviltà è sufficiente avvicinarsi a dei cassonetti, vedere le buste buttate così per strada pigiare il pedale del cassonetto accanto, aprirlo e scoprire magicamente che è totalmente vuoto quindi vuol dire che siamo noi che ci passiamo e buttiamo così giusto per non perdere tempo poi ripeto, escreventi di animali piuttosto che mobili abbandonati in maniera veramente incredibile e poi il nostro ormai distintivo che ci rende noti tristemente, secondo me noti forse anche al di là dei confini è la classica birrozza raffo lasciata sotto i marciapiedi quando il cassonetto è a pochi passi o a pochi centimetri quindi io non sono un santo, anch'io commetterò i miei errori però qui si tratta proprio veramente di quasi voler sfottere lasciatemi passare il termine, la civiltà del cittadino, io butto qui perché tanto passerà qualcuno a raccogliere a me non me ne frega nulla, questo è il messaggio secondo me Per non parlare poi dei mobilifici a cielo aperto che vediamo dinanzi ai cassonetti la gente ovviamente così rinnova il proprio parco mobili e si sente autorizzata non a chiamare gli organi dell'amio per gli ingobbranti, gli organi competenti ma magari nelle ore più buie, in piena notte va vicino al cassonetto e lascia mobili, armadi, letti, reti, di tutto di più Assolutamente facile farsi la villa al mare con i mobili abbandonati da questi signori però è così, al di là delle battute veramente io stesso un po' di anni fa mi liberai di un divano chiamai l'amio, mi diedero un appuntamento e puntualmente vennero a ritirare quanto dovuto però purtroppo si capisce da come vengono abbandonati questi strumenti e questi oggetti che non c'è nessun accordo e nulla, la gente per me ne freghismo lascia lì e va via Io apprezzo molto il suo intervento perché è un cittadino, è un cittadino che evidentemente ama la propria città, io dico che a questo punto oltre a fare un appello al senso di civiltà al senso civico che ognuno di noi dovrebbe avere, io mi permetto anche di dire che forse le istituzioni a questo punto ha mali estremi e estremi rimedi, dovrebbero usare il pugno duro ma veramente duro nei confronti di questi malfattori Assolutamente d'accordo anche perché chi non ha nulla da temere può stare tranquillo qui non è questione di essere coercitivi o cattivi però tenere sotto controllo questi simpaticoni che fanno di tutto per rendere la nostra città da gioiello qual è a una grande porcheria quindi se i nostri, come dire, il comune di Taranto piuttosto che le autorità preposte riuscissero in qualche modo a controllare questo triste fenomeno sarebbe veramente, ce lo meriteremmo noi cittadini un po' più educati rispetto ad altri Anche attraverso ora c'è il sistema delle fototrappola, delle telecamere trappola è successo così proprio dinnanzi alle colonne d'oriche nei pressi di Palazzo di Città c'era un mobile abbandonato le immagini hanno immortalato questo incivile per fortuna questo incivile si è reso conto, ha fatto anche pubblica ammenda ha chiesto scusa speriamo che certi esempi non abbiano più a ripetersi certi esempi negativi non abbiano più a ripetersi speriamo veramente perché veramente questa è una città secondo me unica al mondo per come è strutturata morfologicamente quindi dovremmo fare un po' più di attenzione e farci noi della buona pubblicità e non allontanare gli eventuali turisti o gente che vuole venire a trascorrere del tempo con noi e oltretutto per noi stessi cittadini avere un po' di educazione in più da parte dei nostri amici sarebbe opportuno perché è quello che meritiamo è anche l'importanza che il cittadino che nota certi scempi abbia il coraggio di denunciare non perché noi vogliamo incentivare la cultura della delazione per l'amor del cielo ma perché io dico che gli incivili devono essere individuati, isolati e puniti ed è giusto che il cittadino svolga anche la sua funzione, il suo ruolo di tra virgolette sentinella sentinella civica certo, dovremmo controllarci l'un l'altro al fine di migliorare la condizione civica di questa città bene, ringrazio di vivo cuore il signor Mariano Lasorsa ci siamo conosciuti così via mail conduciamo da semplici cittadini il signor Lasorsa da cittadino io da modesto operatore dell'informazione una campagna per una Taranto migliore e una Taranto migliore dipende innanzitutto da noi e dal nostro senso civico grazie a tutti